Io credo che lo sia già, che il ministro Franceschini l'abbia riconosciuto significa che lavorando in questo modo andremo ancora molto più in alto. Io l'ho detto più volte, stiamo solo all'inizio. Stando solo all'inizio abbiamo scalato montagne importanti perché Napoli era proprio scomparsa dalle cartine del turismo e degli eventi internazionali, era scomparsa dalle mete turistico-culturali, oggi è in vetta, senza investimenti economici particolari, senza grandi eventi, tutto made in Naples, un grande lavoro della città e adesso con questa sinergia istituzionale non possiamo che migliorare, il 2017 andrà in quella direzione. Ma Napoli ce l'ha già, tra l'altro la seconda città d'Europa più cliccata dopo Londra, quindi anche sui social siamo in vetta. Poi ci lavoriamo anche noi come comunicazione, anche io personalmente cerco di lavorare sui social per raccontare la Napoli che vedo, la Napoli che sento, la Napoli delle difficoltà, ma la Napoli dello straordinario momento di riscatto e di riscossa che sta vivendo. Sicuramente posso dire che il turismo a Napoli è un turismo di scelta, di qualità, di attenzione. I turisti vanno molto sui social, questo l'ho notato anche io perché poi chiedo, quindi stiamo ancora fuori dai grandi itinerari dei tour operator e in questo si può migliorare, tanto è vero che gli stati generali del turismo, voluti dall'assessore Nino Daniele, vanno nella direzione anche di rafforzare l'inserimento nei Napoli tra i grandi tour operator, ma nonostante non stiamo ancora in quel filone è un turismo che a me piace molto, perché è un turismo di qualità. Gente che non viene a Napoli per caso, anzi adesso sceglie di rimanere a Napoli, la base è Napoli, per poi andare a fare puntate strategiche come è giusto che sia a Pompeia, a Ercolano, a Positano, nelle isole. Ecco insieme anche tra tutti i sindaci della città metropolitana possiamo anche lavorare ancora di più per rafforzare anche la sinergia e la cooperazione che già c'è, ma si può ancora migliorare, tra le comunità dell'area metropolitana di Napoli.